Ciao, sono Cristina Ruveni, sono la referente di questo servizio che è il servizio d'ascolto per studenti in Ateneo. Io lavoro anche presso Placement Office, sono orientatrice e counselor. Quando mi presento preferisco più parlare di quello che faccio che di quello che sono, cioè leggere la targhetta nella mia porta, quello che faccio è ascoltare gli studenti e le studentesse, aiutarli ad orientarsi, a fare delle scelte, a prendere decisioni e a superare gli ostacoli durante la vita accademica. E inoltre, come counselor, mi occupo anche di migliorare la comunicazione tra le persone per entrare meglio in relazione ed è questo di cui parleremo oggi, la comunicazione interpersonale. Partiamo da che cos'è la comunicazione. Una comunicazione è un passaggio di informazioni in un certo contesto, vedete qui c'è un emittente e un ricevente. La comunicazione crea relazioni ed è questo di cui parleremo in particolare. Comunicare in maniera efficace significa migliorare il nostro modo di stare in relazione con gli altri e quindi la qualità della nostra vita. Qui ci sono due concetti che secondo me sono più importanti. La comunicazione non è quello che diciamo, bensì quello che arriva agli altri. Quante volte si ottiene comunicando una reazione che non ci aspettiamo? Perché non sempre quello che parte è quello che arriva. E vedremo adesso perché e come. Comunicare significa prima di tutto saper ascoltare. Quindi questo sempre, per esempio occupandomi anche al placement di tecniche di ricerca attiva del lavoro, mi occupo per esempio di simulazioni di colloqui di gruppo. Durante un colloquio di gruppo 8-10 persone vengono messe in un contesto in cui devono comunicare tra loro, entrare in relazione. E io sempre consiglio di ascoltare gli altri perché è quella la prima competenza della comunicazione. Adesso vediamo uno per uno i cinque assiomi della pragmatica della comunicazione di Vasilavic del 1967. Primo assioma, non si può non comunicare. Qui vedete due persone in un ascensore che stanno tutte e due distanti, fermi, guardano avanti e non parlano. Quindi in quel momento stai comunicando che non vuoi comunicare. Così come sei in treno, c'hai davanti una persona che chiacchiera e tu guardi fuori dal finestrino in silenzio. Stai comunicando di non voler comunicare, quindi comunque stai comunicando. La comunicazione può essere involontaria, non intenzionale e addirittura inefficace quando ti scappa di comunicare qualcosa che non volevi comunicare. Il secondo assioma. All'interno di ogni comunicazione si possono individuare due livelli, il contenuto e la relazione. Qui ci sono due esempi. Fammi subito questo lavoro. Oppure vorrei mi facessi subito questo lavoro perché è urgente, perché è il cliente, bla bla bla. Quindi il contenuto è lo stesso, ma la relazione che c'è tra queste due persone, cioè se è una relazione di dominio, sottomissione o di partecipazione, collaborazione, cambia il contenuto. Ok, terzo assioma. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i partecipanti. Quindi l'importanza della sequenza. Il che a volte può creare anche la sequenza, causa un comportamento, può creare anche dei conflitti. Per esempio tra due persone, una persona che chiede a un'altra di fare qualcosa, l'altra non gli risponde. Allora poi la prima si nervosisce anche perché non risponde. Quindi la sequenza con cui avviene la comunicazione ha delle conseguenze. La comunicazione avviene attraverso canali verbali e non verbali. Quindi il verbale è il canale privilegiato dei contenuti. Il non verbale è il canale privilegiato della relazione. Facciamo un esempio. Una madre torna a casa dal lavoro. Il bambino le corre incontro e lei gli dice Amore, sono tanto contenta di vederti. Nel frattempo si tira indietro perché ha paura che lui la sporchi o che le smagli le calze. In questo caso la madre con il verbale dice qualcosa, con il non verbale dice qualcos'altro. Quello è il canale privilegiato della relazione, cioè quello che arriva al bambino. Ora poi ci torniamo. Quinto astioma. Tutti gli scambi comunicativi possono essere simmetrici o complementari. Quindi un'interazione simmetrica si basa sull'uguaglianza, si basa su due persone che sono sullo stesso piano. Una comunicazione non simmetrica si basa su due persone che sono su due piani diversi. Ok, allora questo è un famoso schema, un famoso modello che in realtà va spiegato perché qui queste percentuali fanno molta impressione, cioè fanno vedere come le parole, quello che io dico, il verbale, sia soltanto il 7% della comunicazione. Tutto il resto è non verbale e paraverbale, cioè non verbale, gestualità. espressioni, gesti, lo sguardo, la postura, la prossemica, cioè la distanza tra le persone, l'aspetto esteriore, perché anche quello è comunicare. Il paraverbale, cioè il tono di voce, il timbro, la velocità, il volume, le pause, l'energia. In realtà non è proprio così, cioè in questo momento per esempio che non siamo in presenza, il canale privilegiato con cui arrivano i concetti è quello verbale, cioè adesso non siamo assolutamente sul 7%. Infatti questo modello è di forte impatto, ma in realtà quando è stato studiato si trattava di usare solo parole singole, far arrivare alle persone una parola singola in cui il modo in cui si diceva, cioè il paraverbale e non verbale, era in contrasto col significato. Per esempio, gentilezza. E alle persone arrivava molto, in queste altissime percentuali, il non verbale rispetto al verbale. Quindi va preso con le molle. Si mette sempre questo modello quando si parla di livelli di comunicazione, perché fa capire l'impatto che ha la comunicazione non verbale su quella verbale. Perché è così importante il linguaggio non verbale? Perché integra e può addirittura sostituire la comunicazione verbale, quando con uno sguardo ci si capisce, regola l'interazione, contribuendo alla sincronizzazione, i turni, le sequenze. Quindi noi ci sincronizziamo, specialmente se lo facciamo con volontà. Per esempio, dopo tanto allenamento, in un colloquio di counseling, si impara a tacere nel momento in cui l'altro prende fiasco. Quindi si regola proprio l'interazione col non verbale. Rivela gli atteggiamenti del soggetto relativi all'immagine di sé e del suo corpo. Quindi una postura molto chiusa, agli occhi bassi, rivelano l'immagine che una persona ha di sé. Esprime gli atteggiamenti interpersonali nella relazione. È il linguaggio delle relazioni interpersonali. Comunica le emozioni. Vince sempre. Vince sempre nel senso che vi dicevo di la madre che torna a casa dal lavoro. E al bambino gli arriva il non verbale. Quindi vince in questo senso. Ecco il linguaggio del corpo in tutte le sue forme. Espressioni facciali, sguardi, movimenti del corpo, aspetto esteriore, quindi abbigliamento, trucco. Con quello noi comunichiamo, no? Comunicazione spaziale, paraverbale. Comportamento spaziale, postura, prossemica, contatto. La prossemica in particolare, anche qui, tutte queste cose vanno un po' prese con le molle perché è difficilissimo, è impossibile dare delle misure al non verbale. Però è interessante questo modello di prossemica che fa proprio delle distanze precise. Cioè la distanza tra due persone che sono in intimità arriva fino a 45 centimetri. Da 45 centimetri a 1,20 m la distanza personale, cioè con amici intimi e familiari. La distanza sociale tra colleghi, conoscenti, 1,20 m, 3,50 m, la distanza pubblica, cioè quando per esempio si parla in pubblico, più di 3,5 m. Quante volte, a me anche recentemente, è capitato di, per esempio, due persone che magari si piacciono molto, stanno già insieme, però ancora non l'hanno detto e si intuisce questa cosa dalla distanza che tengono l'uno dall'altro. Allora, partiamo dal cosa non fare per comunicare bene con le persone, per entrare in relazione. Vi posso dire che in un anno, il corso di counseling dura tre anni, praticamente il primo anno si passa a studiare cosa non fare, perché quando sai cosa non fare sei già a ottimo punto. Allora, qui ci sono le barriere della comunicazione. Vedete qui le, insomma, vissi, cioè l'acronimo delle prime lettere. Allora, non valutare, non interpretare, non sostenere, non soluzionare, non investigare, non valutare. Questo atteggiamento implica una posizione rigorosa, cioè valutare nel senso di dare proprio un valore morale, no? Hai fatto bene, hai fatto male, devi fare così, non devi, bisogna, è giusto, è sbagliato. L'ascoltatore filtra le informazioni attraverso il suo sistema valoreale, approvando o disapprovando l'interlocutore. Qui è facile capire come è sbagliato dire hai fatto male, hai sbagliato, non devi fare questo, non devi fare quello, più difficile è capire perché è sbagliato dire hai fatto bene, ma sei stata brava, è giusto. Quindi, allora, cerchiamo di capirsi, qui non sono regole che valgono sempre, no? Però se vogliamo ascoltare le persone in maniera competente ed entrare in relazione e creare un rapporto di fiducia, è bene non fare questi errori. E dire hai fatto bene, cioè quando tutti noi forse abbiamo un'amica che ci dice sempre quello che ci vogliamo sentire dire, no? E il rapporto non si crea un vero e proprio rapporto di fiducia, non so se vi torno, ora ci torniamo tra un attimo. Non interpretare, cogliere nel discorso quello che è importante per l'ascoltatore, questo si fa sempre, no? In base al tuo vissuto personale, cioè tu associ una cosa che è successa a un tuo amico, a quello che è successo a te e cominci a parlare di quello che è successo a te. Uh, a me è successa la stessa cosa e poi racconti qualcosa che non c'entra niente, no? Quindi, in questo modo la realtà viene distorta, l'interlocutore non si sente incompreso perché tu stai parlando di te. Quindi, stai interpretando la sua realtà con la tua sfera, dei tuoi vissuti, ok? Bisogna stare attenti a interpretare. Tu fai così perché sei insicura. Alla base del tuo problema c'è la paura del fallimento. E' successa a me la stessa cosa, ma che ne sai, dico io. Non sostenere. Questa è un po', appunto, vi volevo, vi ho detto che ci sarei tornata, come la valutazione positiva, cioè andrà tutto bene, ma non ti preoccupare, succede a tutti, sai, è naturale, non ho dubbi che tu riuscirai a fare questo e quello. Quindi, sebbene tutti abbiamo bisogno di sostegno in alcuni momenti, quella famosa amica che ti dice sempre quello che pensa e che tu ti voglia sentir dire, magari lì per lì ti incoraggia anche, ma non si crea una vera relazione di fiducia che funzioni. E' tecnicamente un errore comunicativo il sostegno, anche perché se una persona ti sta… Ritorniamo al bambino, ci torno sempre sui bambini, perché, e questo ricordatevelo, quando parlate di voi, delle vostre esperienze, se avete avuto esperienze come educatori, come educatrici, come babysitter, ricordatevi che chi sa comunicare con i bambini sa comunicare con tutti. Quindi, se un bambino viene da te piangendo perché il suo amichetto gli ha rubato il pallone, tu non devi ridere o dire che, vabbè, che vuoi che sia, dai, ma su, su, ok? In quel momento per lui è un problema quello, grande, sta piangendo perché sente rabbia o dolore. Quindi, vedete che il sostegno può essere un errore comunicativo. Non soluzionare. Qui anche va preso un po' con le molle perché dipende che lavoro fai, ok? Quindi, per esempio, quando io faccio un colloquio di orientamento, il colloquio di orientamento è anche informativo. Cioè, se io in quel momento oriento una persona di una scuola, devo sapere e dirgli quali sono i nostri corsi di studio. Quindi, devo passare delle informazioni e anche delle soluzioni. Cioè, se non sa dove andare, gli spiego dove andare, ok? Però, torniamo alla relazione d'aiuto, a un colloquio, cioè alla comunicazione perfetta. Cosa vuol dire non soluzionare? Vuol dire che non devi dare soluzioni che siano tue. Tu hai il tuo percorso, io ho il mio. Quello che è andato bene per te, non è detto che vada bene anche per me, ok? Quindi, la soluzione è, se fai così, andrà tutto bene. Prendi in considerazione l'idea di, al posto tuo, io farei così. Tu non ti devi mettere al posto di, ok? Ognuno ha la soluzione sua. Ultimo, non investigare. Domande indagatrici, volte a scoprire, a saperne di più. Una persona ti dice, in un colloquio con un tutor universitario, con uno studente tutor, dice, purtroppo non ho potuto fare, ho dovuto rimandare l'esame per problemi di salute. Gli sta chiedendo come fare a farselo rimandare, non so. È inutile in quel momento chiedere che cosa hai avuto, qual era il tuo problema di salute. Quindi, fare poche domande, quelle che ti occorrono, e possibilmente aperte. Come sono le domande aperte? Allora, partiamo da quelle chiuse. Le domande chiuse sono quelle che prevedono la risposta sì, no. Spesso iniziano con il perché. Quindi, perché non sei ancora registrato? Perché non hai fatto l'erasmus? Perché non fai un esame da... Lo sentite che c'è un giudizio? In una domanda chiusa spesso c'è un giudizio. Mentre invece le domande aperte facilitano l'apertura, l'esplorazione. Fanno in pratica venire voglia di parlare. Quindi, iniziano di solito con come, cosa, in che modo. Cosa posso fare per te? Ci sono domande che vorresti pormi? In che modo questo per te è un problema? Queste domande aiutano ad aprirsi di più. Altre barriere comunicative. Quindi, dare consigli, suggerimenti, rassicurare, insomma, alcuni ve l'ho già detto. Minimizzare, sdrammatizzare. Quindi, quando una persona viene da te e sente forte un problema, tu ironizzi, minimizzi, sdrammatizzi, quello è un errore comunicativo. E poi, per non parlare, del minacciare, del distrarsi, quindi stare lì col telefono, quante volte ci capita che tu stai parlando e quello non stacca gli occhi dal telefono, certo, non aiuta a creare relazione e comunicare. Cosa non fare? Passiamo adesso a cosa fare. Allora, se abbiamo due orecchie e una sola bocca, significa che dobbiamo ascoltare il doppio di quanto parliamo. Parliamo di ascolto attivo. Allora, partiamo dall'ascolto povero. L'ascolto povero si caratterizza da disinteresse, distrazione, disattenzione. L'ascolto medio si focalizza esclusivamente sulle parole. Quando dici, sì, ti ho sentito, ho sentito quello che hai detto. È diverso da un ascolto ricco o attivo. L'ascolto attivo è una forma di comunicazione completa, che ci rende disponibili nei confronti dell'altro e che coinvolge aspetti comunicativi verbali e non verbali. Per quello abbiamo iniziato parlando di comunicazione non verbale. Quindi, quello che succede attraverso l'ascolto attivo è non solo ascoltare, ma far sentire le persone accolte, ok? Facilitare proprio la costruzione di una buona relazione. Come si fa? Allora, ascoltare cosa l'altra persona dice, osservare come lo dice e fare attenzione anche a quello che non dice. Lo strumento fondamentale dell'ascolto attivo è la riformulazione, cioè si riformula quanto è stato detto senza aggiungere contenuti personali. Quindi non ripetere a pappagallo, ma riassumere, riformulare il concetto mantenendo il dubitativo. Se ho capito bene, mi stai dicendo che? Mi pare di capire che? Perché questo si mantiene il dubitativo per assicurarsi di aver capito. Quindi serve proprio a verificare di aver capito e comunicare il rispetto e interesse. Inoltre, se mentre ascolti vuoi riformulare, il tuo ascolto sarà necessariamente ricco e attivo. Quindi la persona a questo punto è sicura di essere stata compresa e lì si innesca una relazione di collaborazione e di fiducia. In più, orientarsi fisicamente nello spazio proprio verso l'altro, perché se io sto così o se io ti parlo così o ti parlo guardando le slide da dietro, tu non senti il flusso comunicativo. Ascoltare con attenzione, evitando interruzioni e distrazioni. Osservare anche il comportamento non verbale. Osservare, ok? Cambia volume? Una parola la enfatizza di più? Per il momento basta che tu ci faccia caso. Cerca di mantenere un contatto visivo costante, senza fissare. Sorridi con moderazione, senza esagerare. Rispetta la prossemica. La prossemica nella comunicazione efficace è un po' una danza. Se tu ti avvicini e vedi l'altra persona si allontana, trovi l'equilibrio della distanza che va bene per tutti e due. Fare sceni di assenso mentre la persona parla, e anche paraverbali. Rispetta e rispecchia il ritmo e l'intensità e il volume dell'altra persona. Usa il linguaggio che rispetti il più possibile quello dell'altro, senza sfoggiare paroloni o tecnicismi. Cioè, cercando sempre di non dimenticare, anche parole che magari per te sono ormai di uso comune, devi sempre pensare, lo capirà? Se hai il dubbio, lo spiedi quella parola. Muovi le braccia con moderazione, e quindi, in meno possibile, mantieni una postura morbida. Aspetta il tuo turno e fai domande solo per assicurarti di aver capito. Dopo aver ascoltato bene bene, possiamo passare a rispondere. La risposta di comprensione e facilitazione. Per dare luogo a questa risposta, bisogna che sia presente un atteggiamento di accettazione dell'altro. Ora, lo vediamo con calma. L'atteggiamento di accettazione è specularmente opposto a quello valutativo. Quindi, implica il non valutare, né sotto forma di approvazione, né sotto forma di disapprovazione. Non sentenziare, non colpevolizzare. Accettare l'altro è però molto di più. Significa, oltre che astenersi dal giudicarlo, rispettare profondamente l'alterità e l'unicità. L'altra persona è una persona diversa da te, che ha fatto la sua vita, le sue battaglie, i suoi problemi, e tu di tutto questo non sai nulla. Quindi, questo bisognerebbe scriverselo in tutti i muri. Perché? Pensate a quello che succederebbe nei social network se le persone mantenessero semplicemente questa forma di rispetto. Perché ci possa essere realmente una risposta di comprensione e chiarificazione, non si può prescindere da questi tre elementi. Qui si parla di processo di aiuto, comunicazione interpersonale in una relazione d'aiuto, che può essere un colloquio di counseling, ma anche un colloquio di orientamento, ma anche un riuscire a un colloquio d'aiuto quando si fa volontariato, in un'associazione, in tantissime forme. Allora, congruenza, empatia, accettazione incondizionata e comunicare questi sentimenti. L'empatia è sentire il mondo dell'altro come se fosse il proprio pur mantenendo il senso della propria identità. Quindi, essere in empatia in una relazione d'aiuto significa io sto nelle tue scarpe, ti ascolto in maniera empatica, senza cascarci dentro. Per questo bisogna fare anche un grande lavoro su di sé per non cadere dentro i problemi delle altre persone, no? Perché non lo puoi più aiutare se c'entri dentro con tutte le scarpe tue. Accettazione positiva e incondizionata. accettare l'altra persona senza giudicarla indipendentemente dal fatto che i suoi valori siano diversi dai suoi. Eventualmente discutendo l'idea mai la persona. Questo è fondamentale. Distinguere quello che dice dalla persona. Accettazione positiva e incondizionata e anche questa non è facile, non è sempre possibile. Per esempio, un counselor che deve, proprio come regola deontologica a stenersi dal giudizio, può capitare che, per esempio, a me è capitato con una persona molto violenta di sentire, di non riuscire a mantenere questa accettazione positiva e incondizionata, incondizionata vuol dire senza condizioni, e quindi l'ho mandata da un'altra persona. congruenza, cioè mantenere anche l'ascolto di sé, di te, di quello che stai provando in quel momento. Perché qui la chiave di tutto è cercare di capire, detto peggio, poi molto peggio, quella che è roba tua e quella che è roba sua. Ok? Perché tu potresti avere una reazione emotiva, ma quella è roba tua. Ok? Invece l'altra persona è un'altra persona. Questa è la regola numero uno. Ok? Allora, l'assertività è un concetto che è importante nella comunicazione interpersonale, fondamentale. È una competenza relazionale che consente di riconoscere i propri bisogni e saper difendere i propri confini nel rispetto pieno degli altri. Quindi, qui vedete un grafico, c'è l'aggressività, aggressività, io sono ok, tu non sei ok. La passività, io non sono ok, tu sei ok. L'assertività, invece, io sono ok e anche tu sei ok. Quindi, essere assertivi significa comunicare in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni, le proprie opinioni, senza essere aggressivi. per questo motivo spesso si parla proprio di comunicazione assertiva. Ok, questa è una tecnica di comunicazione molto efficace, specialmente nei conflitti. Ora, vediamo com'è fatto un messaggio io. Ho anche un esercizio che se volete vi posso mandare a questo proposito per tutte le domande e se volete farmi, se volete approfondire, potete scrivermi a cristina.rubegni chiocciola unisi.it Allora, vediamo degli esempi, poi torniamo un attimo indietro. Guarda che disastro, lasci tutto in disordine, mi fai sempre arrabbiare. in questa frase ci sono vari errori. Guarda che disastro, ora vediamo come, ma guarda che disastro uno si immagina qualunque cosa, quindi non è preciso. Lasci tutto in disordine, mi fai sempre arrabbiare, sempre. Reformuliamola così. Quando tu lasci i piatti da lavare, quindi, no, il disastro generale, quando tu lasci i piatti da lavare, mi sento costretta a lavarli per poter mangiare, perché lo spazio è piccolo, se non lavo prima non riesco neanche a cucinare. Questo mi fa sentire frustrata, perché durante la mia pausa a pranzo, che è breve, così non posso riposarmi quanto vorrei, perché devo stare a lavare i piatti tuoi, praticamente. Per questo desidererei che tu lavassi le cose che usi quando le usi. Allora, scomponiamo. Il messaggio io è fatto così. Innanzitutto descrivi la situazione in maniera precisa, quando e descrivi la situazione. Poi, di come ti senti, arrabbiata, impaurita, offesa, triste. Poi, esprimi il motivo del tuo disagio, perché, e infine di che cosa vorresti che succedesse o cambiasse, quindi vorrei una soluzione. Quindi, l'interlocutore non si sentirà né colpevolizzato né giudicato, perché tu stai parlando di te, e per quello si chiama messaggio io. Tu stai comunicando i tuoi bisogni. Quindi, utilizzare la tecnica del messaggio io è indispensabile quando si attraversa una situazione di difficoltà dettata dall'atteggiamento dell'altra persona, perché l'altra persona non ha il potere di, nessuno può influire sui tuoi sentimenti, solo tu. Quindi, anche già dire mi fai arrabbiare è un errore. Sei tu che permetti a quella situazione, a quella circostanza di provare di provare la rabbia, ma la rabbia la provi te. Ok? Quindi, assumersi la responsabilità dei propri sentimenti, delle proprie emozioni. In realtà, è un segreto, questo messaggio io funziona così. Il suo grande vantaggio è che non ammette repliche, perché non è possibile contestare come ti senti, le tue emozioni, i tuoi bisogni. Ok? È incontestabile. Allora, ti sei dimenticato di passare in lavanderia? Sei sempre il solito, devo pensare a tutto io. riformuliamo. Quando tu dimentichi qualcosa che riguarda l'organizzazione domestica, e in questo caso di andare in lavanderia, io mi sento arrabbiata, perché dobbiamo riprogrammare le attività. Vorrei che tu facessi in modo di non dimenticarti, per esempio, mettendo un promemoria. Oppure, se dici un'altra volta questa parola, ti porto a casa. qui al bambino, se dici un'altra volta questa parola, minaccia, che poi di solito non viene mai messa in atto, quindi è proprio disfunzionale in questo caso. Allora, quando tu dici questa brutta parola, io mi dispiace tanto, perché è una parola che serve per offendere le persone. A me piace passare il tempo a giocare con chi mi dice parole belle e affettuose. Quindi, te non puoi contestare cosa a me piace e cosa non piace e che io mi senta offesa. Ok? Come abbiamo visto, i qualificatori universali, sempre, mai, tutti, nessuno, sono sempre un errore. Cioè, quando una persona si esprime utilizzando un qualificatore universale, si sta ragionando su bianco e nero, su tutto o niente. quindi sicuramente si sta perdendo tutto quello che c'è nel mezzo e sta commettendo un errore di comunicazione. Quindi, se, per esempio, le persone ti deludono sempre, questi sono cartelli che noi ci mettiamo al collo e che durante un percorso di counseling devono essere destrutturati. Quindi, significa che in quel momento la persona è delusa da un'altra persona, però sta generalizzando, ok? Tralasciando tutto quello, tutte le persone che non l'hanno delusa e anzi l'hanno aiutata e l'hanno incoraggiata. Allora, qui c'è un esempio. In presenza, quando facciamo questo laboratorio, questo può essere un gioco che facciamo tra noi. Allora, ho immaginato una fisica distruttiva fatta all'ufficio stage. Io non so più come fare, non so a chi rivolgermi, perché tutti mi dicono cose diverse, non c'è nessuno che voglia aiutarmi. Devo fare lo stage obbligatorio, ma non so dove andare. Io non sono di Siena, non conosco nessuno. Allora ditelo che lo stage lo può fare solo chi è raccomandato e ha delle conoscenze. È tutto il sistema che è sbagliato, lo stage è uno sfruttamento di vite umane e voi siete solo dei bighelloni statali. critica distruttiva. Allora, innanzitutto vediamo come fare a prenderla una critica del genere, perché anche questa è una competenza relazionale e nel lavoro è importantissima imparare a reggere feedback negativi. Ok, allora, quindi, prendere la critica come occasione per imparare qualcosa e crescere. Può essere anche che stai imparando ad attraversare un momento di stress che stai imparando a controllarti e crescere. Quindi, cerca il miglioramento e avere feedback dagli altri può sempre aiutare, anche se fosse aiutarti a reggere botta. Distingui la critica dal critico, cioè quello che sta dicendo, dalla persona. Questo è non prenderla sul personale, quindi, è difficilissimo e importantissimo. Noi prendiamo tutto sul personale, abbiamo bisogno nel bene e nel male sempre di concentrare tutto su di noi. Quindi, sia una critica distruttiva che una critica un complimento. Per esempio, un brava di un professore diventa spesso ti qualifica, no? Cioè, se il professore mi dice brava io sono brava, se il professore mi dà 28 anziché 30 io non valgo. Ok? Quindi, quello che succede ti qualifica come persona e questo anche in un percorso di crescita personale si va a decostruire, lasciando semplicemente che tu prenda la cosa per quello che è, per quello che sta succedendo in quella circostanza specifica. Come si fa una critica costruttiva? Allora, innanzitutto si inquadra la situazione in maniera positiva partendo dal presupposto che la critica possa servire a qualcosa. Ci si concentra sulla situazione e non sulla persona e bisogna essere specifici, non generalizzare. Un errore non definisce la persona. Commentare cose che possono essere cambiate, quindi inutile dire governo ladro, perché in quel momento non si può cambiare il governo, si può risolvere quel problema lì. Non criticare basta, cerca di essere di aiuto tu per primo suggerendo una soluzione o un miglioramento. Cosa puoi fare tu per migliorare la situazione? Questo anche quando per esempio vi fanno una critica se voi fate parte di un'associazione o se lavorate in quel momento in un ufficio, chi fa una critica può essere stimolato a dire cosa vuole fare lui o lei per risolvere quel problema, che apporto potrebbe portare, che idea ha. Di solito le persone si sgonfiano quando chiedi un aiuto. Non fare ipotesi concentrati su ciò che vedi, che senti, che sperimenti. Quindi dare feedback si chiamano feedback fenomenologici, cioè parla solo di quello che vedi, che senti, che sperimenti, no della tua idea. Ok? Vediamo. Allora, il mio piano di studi prevede uno stage. Ho guardato tra le vostre offerte che sono molte e sempre aggiornate e non ma. Per il momento non ho trovato niente che faccia al caso mio. Questo perché in generale è sempre meglio usare e quando è possibile perché non contrappone ma aggiunge. Avrei bisogno di fare lo stage a Siena perché ho anche gli esami e le lezioni da seguire. Mi chiedevo cosa posso fare io per trovare un'opportunità adatta a me. Ho già parlato con un professore che mi ha detto di prendere appuntamento per una consulenza orientativa per cercare un'attività da fare mentre studio e che sia anche formativa per me. Questa ha detto la stessa cosa anche se probabilmente è difficile per voi crederlo ha detto la stessa cosa però con un atteggiamento costruendo la critica in una maniera totalmente diversa cioè proficua ok questa è la mappa dell'empatia è un'attività che non si può fare adesso da lontano potete farla in gruppo cioè un'associazione oppure un gruppo di lavoro un gruppo di tutor serve noi l'abbiamo fatta nel nostro official placement ed è stata veramente una bella esperienza allora si prendono sei fogli ci si mette nel mezzo la parola della vostra ausenza questa la mappa dell'empatia è uno strumento che serve nel marketing serve soprattutto prima di fare un progetto per esempio per studiare il cliente per mettersi nei panni del cliente quindi si prendono sei fogli ci si scrive cosa pensa cosa sente cosa vede cosa ascolta cosa dice cosa fa la zona del dolore e la zona dell'utile quindi immaginiamoci di far parte di un'associazione studentesca si mette nel mezzo potete mettere anche delle foto delle immagini dei studenti e poi mettere questi sei fogli ognuno di voi attaccherà un post-it a queste aree di un concetto una parola una frase che immagina che l'utente veda senta pensi quindi cosa pensa che cosa conta davvero quali emozioni prova cosa sente cosa lo motiva quali sono i suoi sogni le sue aspettative quindi immaginiamoci uno studente che studia a Siena che può essere uno studente fuori corso che cosa sente che cosa lo motiva quali sono i suoi sogni le sue aspettative cosa vede cosa osserva cosa nota quali sono gli aspetti che catturano la sua attenzione quindi per esempio proprio in pratica noi abbiamo visto per esempio che gli studenti molto giovani quelli delle scuole non leggono le email non le vedono nemmeno oppure che non leggono i cartelli se li mettiamo i cartelli e allora piuttosto che continuare a dire la gente non legge i cartelli chiediti che cosa vede vede post su Instagram bene glielo scrivi su Instagram ok è inutile che tu continui a mettere comunicazioni dove lui non ti vede cosa ascolta stesso discorso cosa lo influenza quali canali di comunicazione preferisce cosa dice cosa fa qual è il suo atteggiamento come si comporta cosa potrebbe dire agli altri quali sono i conflitti tra ciò che dice e ciò che prova quindi anche questo queste quattro aree voi potete scegliere di mettere per esempio dei post-it colorati con colori diversi e ognuno di voi mette il suo post-it noi in ufficio l'abbiamo tenuto anche per me questi fogli che sono anche bellini oltre che in un momento ti mettono davanti il tuo studente la tua studentessa e tu la vedi lo vedi non come un utente ma come una persona che ha tutto il suo mondo e poi l'area del dolore e l'area dell'utile pain e gain quindi quali sono le sue frustrazioni le sue paure i rischi cosa lo ostacola nel raggiungimento dei suoi obiettivi e invece cosa vuole davvero ottenere come misura il suo successo cosa lo rende felice ok allora per tutte queste cose di cui abbiamo parlato io vi ripeto che vi aspetto appena sarà possibile nel mio ufficio che è presso il placement office al Santa Chiara intanto possiamo vederci su Skype possiamo approfondire qualunque area di questo argomento che abbiamo trattato oggi non dovete far altro che scrivermi per prendere appuntamento quindi ripeto la mia email che è cristina.rubegni chiocciola unisi.it vi saluto e vi ringrazio ciò vi ringrazio